Match a squadre, tenete alto l'onore del nostro gruppo. Siamo in vantaggio. Ok, in uscita. Attivo il destabilizzatore. Attivazione destabilizzatore. Attivazione destabilizzatore. Attivazione destabilizzatore. No. Abbiamo perso il comando. Iscriveteci. No. 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 attivo il destabilizzatore rc xd nemico nella tua area o avvio stile in sorvolo no 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 R-C-X-D nemico nella tua area. Attivo il destabilizzatore. Sì. 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 Non è un'altra ristrata. Grazie a tutti.